Il Vangelo della tredicesima domenica del tempo ordinario di questo anno in corso è un Vangelo radicale, serio, adulto, che ci chiede di uscire dal nostro torpore di cristiani ben pensanti, che stanno tranquilli e che coltivano la fede cristiana semplicemente come sistema di rassicurazione, come meccanismo di salvaguardia dai traumi. Ecco, non è questo il cristianesimo e questo viene preparato dalla prima parola che ascolteremo nella liturgia, che è quella in cui si narra di una donna che accogliendo un profeta come profeta ne riceve fecondità. Ecco, fecondità, una vita che nasce perché si riceve una parola, si accoglie un profeta come profeta e questo profeta dà in cambio la stessa vita di Dio che lui porta in sé per la profezia che può esercitare. Ecco, il Vangelo ci parlerà di questo non perdere nessuna ricompensa di quando noi accogliamo la parola di Dio, quando la accogliamo come tale. Questo fa riferimento al fatto che Dio ha da dare cose che non si perdono. Accogliere Dio è molto più importante che non tirare a campare e mettere insieme, impacchettare una vita più o meno tranquilla come noi pensiamo essere il cristianesimo. Ecco, questo ci prepara l'ascolto del Vangelo, che è un Vangelo che ci chiama un pochino a uscire da una mentalità un po' tranquilla, un po' pacata e che ci sorprende con le sue affermazioni decisamente radicali. Certamente non dobbiamo dimenticare che il Vangelo è una chiamata ad una vita straordinaria, non è una chiamata alla tranquillità, alla tecnica di sopravvivenza che noi abbiamo spesso praticato come vita. Gesù dice delle cose molto molto sconvolgenti. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà a perdere la vita. Ma di cosa stiamo parlando? Noi siamo cristiani per stare bene, normalmente questa è la mentalità che gli anni del New Age, gli anni 90 ci hanno lasciato. Abbiamo trasformato il cristianesimo in un sistema di benessere ed ecco non capiamo un Vangelo come questo, ma da che mondo è mondo? Il Vangelo è sempre destabilizzante e ha la sua missione di portarci una vita che non è semplicemente la vita che ci hanno dato i nostri genitori, no, ne esiste un'altra. La vita che ci hanno dato i nostri genitori è la vita naturale, il cristianesimo inaugurato da Cristo che ha vissuto nella carne d'uomo, la vita divina, vero Dio e vero uomo, trasforma la vita umana in una vita da figli di Dio, è una vita straordinaria secondo il cielo, come in cielo così in terra diciamo nel Padre Nostro. Noi siamo chiamati alla grandezza di una vita straordinaria e allora si tratta di vivere da profeti e da essere portatori di una parola che porta con sé la potenza stessa di Dio. Certo non è possibile vivere seguendo Cristo e continuare a fare la volontà della nostra struttura infantile, far contenti mamma e papà. Quanta gente, quanti santi hanno dovuto disobbedire agli assoluti familiari per poter entrare nella grandezza della vita, della vocazione che ricevevano da Dio. Pensiamo semplicemente a Francesco d'Assisi che restituisce i suoi vestiti al Padre, rompendo così in quel momento la sua relazione con Lui. Se nella prima lettura si parlava di fecondità, ecco la fecondità a cui siamo chiamati noi cristiani, a nascere secondo un'altra vita, a passare dalla vita che ci hanno dato i nostri genitori alla vita che viene dall'alto, rinascere dall'alto, come dirà Gesù al Nicotemo nel Vangelo di Giovanni, vivere secondo un altro padre, non chiamare più nessuno padre su questa terra. Questo vuol dire che noi dobbiamo disinteressarci dei nostri genitori? No, la carità ci imporrà la cura, l'accoglienza, il perdono, la tenerezza verso i nostri genitori, ma non possiamo pretendere che la vita che ci hanno dato i nostri genitori sia l'unica vera vita della nostra esistenza. Ce n'è un'altra, più grande, più bella, più nobile, quella che è dallo Spirito Santo. La vita nello Spirito non è più la vita secondo la carne, come dirà appunto Gesù a Nicotemo, quel che nasce dalla carne è carne, quel che nasce dallo Spirito è Spirito e spesso queste due vite entrano in contrapposizione. Chi perde questa vita troverà la vita di Cristo e chi avrà perduto la propria vita per causa di Cristo, cioè avrà disobbedito a tutto quel sistema di assoluti che vengono dall'infanzia e che tutti ci portiamo un po' dentro in una maniera o nell'altra, attraverso anche tutta una serie di buchi, di vuoti, di insoddisfazioni, di infelicità, di compensazioni che andiamo cercando, di mancanze che a tutti in una maniera o nell'altra sono arrivate. Ecco, se noi obbediamo a quel tipo di struttura non arriveremo mai all'amore secondo Dio, perché l'amore secondo Dio azzera il contatore di tutti i nostri conti in sospeso per ripartire dal Dio, ripartire dalla sua opera in noi, ripartire dalla sua grazia, ripartire dalla sua potenza. I cristiani antichi, lo vediamo nelle catacombe, contavano la vita dal momento del battesimo e cambiavano nome perché diventavano altre persone, così come Cristo, cambia il nome di alcuni suoi discepoli perché diventano altri, perché entrano in una vita diversa, nuova, più grande. Ecco, cercare di ottimizzare il cristianesimo dentro la nostra vita naturale vuol dire ridurre il cristianesimo ad una porcheria, ridurre il cristianesimo ad una mediocrità, ad una cosa impresentabile, proprio perché abbiamo fatto del cristianesimo una cosa orizzontale, a portata di apertura alare dell'uomo, lo abbiamo dovuto trasformare in una morale perché doveva diventare un'opera del nostro sforzo. Invece il cristianesimo non è una morale, è grazia, è potenza di Dio in noi, è una vita che rinasce dall'alto, è una vita che nasce dal perdono, dalla misericordia e diviene opera di misericordia secondo la misericordia di Dio, che tutto crede, tutto spera, tutto scusa e che non tiene conto del male ricevuto e che è da Dio e che passano i cieli a terra, ma questo amore andrà oltre la fede e la speranza, questo amore che nasce dall'amore del Padre Celeste. È questa la vita da abbracciare, è questa la vita che non possiamo che amare più della nostra vita, della vita ricevuta dai nostri genitori. Per questo chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, non si parla significa essere adatti, essere adatti a qualcosa. Chi ama il padre o la madre più di me non è adatto, non riesce, non riesce a vivere la vita cristiana. Sono abbastanza ridicoli coloro che anche magari hanno dei ruoli nella chiesa e si mostrano infantili, irrisolti, collegati ad assolutizzazioni vecchie come il cucco, a domande che si portano da quando erano bambini a rivalità e a bisogni e a aspirazioni che sono piccole piccole, mediocre, non secondo il cielo.